Allora, in questa seconda ora torniamo a Java e facciamo un pochino di ripasso accelerato sulle cose che già sapete benissimo di programmazione oggetti, gestione di classi, collection e cose di questo genere, ma ci servirà anche ovviamente per prepararci poi a collegare queste cose che facciamo oggi con poi l'interfaccia grafica da montarci sopra e questo sarà poi il lavoro della prossima settimana. Quindi per ora proviamo semplicemente a rivedere insieme quelle che sono i punti principali e le trappole principali nell'usare classi e collection con questo semplice esercizio, il cui testo è qua dentro il progetto Libretto Voti in un file che si chiama ReadMe, che è stato scritto nel linguaggio che si chiama Markdown, che è un semplice linguaggio di testo per scrivere del testo che può essere, diciamo così, formattato senza complicarsi troppo la vita, viene molto usato in questi progetti OpenSUSE, questo linguaggio Markdown, perché tutto sommato ti permette di scrivere un testo formattato in modo decente semplicemente come file di testo puro, no? E se non file di testo puro su Git è molto facile anche di tracciare le sue evoluzioni, le sue differenze, via via. Ok, dicevo, questo noi lo pensiamo come semplice programmino su linea di comando, come quelli che facevate a programmazione oggetti, ma con l'intenzione di agganciarlo poi a un'interfaccia grafica. Ok? Quindi non andiamo a modificare direttamente il main del progetto, perché questo main ci serve, che rimanga così per poter far partire l'interfaccia grafica, e quindi ci creiamo un package separato, un package Java, quindi la nostra cartella, nella quale sviluppare il nostro esercizio di oggi. Questo package, new package, lo chiamiamo model. Quindi all'interno del nostro progetto libretto voti abbiamo un package che chiamiamo, un sotto package, libretto voti, punto model, dentro cui andiamo a lavorare. Perché si chiama model? Ne parliamo noi di prossimo. Ok? Ma come anteprima, come spoiler, perché noi cercheremo di tenere separato il controller che gestisce l'interfaccia dal modello che gestisce i dati. avete già cominciato ad avere un assaggio di che cosa vuol dire lavorare dentro il controller con l'esercizio dell'indovina il numero, eccetera, dove alla fine si mescola un po' tutto, perché dentro quel controller c'è un po' di variabili che ti riassumono lo stato delle operazioni, il numero di inventare, il numero di indovinare, il numero di tentativi, eccetera, eccetera, e altre variabili che ti descrivono lo stato dell'interfaccia, se il bottone è abilitato o non è abilitato. Tutto bello mescolato. È chiaro che questa cosa qua non può crescere, perché poi il controller dovrà fare un lavoro principalmente di gestione dell'interfaccia, controllo degli errori di emissione, di validazione dei dati, eccetera, eccetera. Mentre invece la logica del gioco è bene separarla, del gioco o dell'applicazione. Allora, settimana prossima cercheremo di chiarirci un pochino di idee su come ottenere questa separazione, per ora iniziamo dal basso, iniziamo a creare delle classi che possano funzionare in tutti i modi, sia che queste classi siano richiamate da un programma su linea di comando, sia che queste classi vengano poi richiamate dal controller e quindi i valori su cui adesso lavoriamo vengano poi inseriti dall'interfaccia grafica. E questa è la nota 2. Cioè, per prepararci al lavoro che faremo di avere un programma complesso che abbia sia la composizione dell'interfaccia utente che la gestione dei dati, separiamo queste varie competenze. Nel package principale c'è l'interfaccia, nel package model c'è tutta la parte di logica. Allora, questo esercito cosa ci chiede? Ci chiede di sviluppare insieme una classe libretto che rappresenta il libretto dei nostri voti e una classe voto che rappresenta il singolo voto che andremo inserire dentro il libretto. E poi una classe di prova che si chiama testlibretto che contiene il main da cui poi richiameremo queste varie altre classi. Allora, possiamo partire dal basso, possiamo iniziare a creare la classe voto, una normalissima classe Java, non eredita da nulla, non ha bisogno di un main e quindi lo possiamo creare definendo essenzialmente quelle che sono le sue proprietà. Qui vi sto facendo il risulto in 5 minuti del corso di programmazione oggetti, ma è un ripasso perché sicuramente la sessione di esami vi ha rassettato la memoria di altre materie. Allora, che cosa contiene, quali informazioni ci sono dentro un voto? Andiamo poi a sbirciare ma sicuramente un voto sarà composto di l'esame il voto vero e proprio, quindi il corso, il nome del corso, il voto e per ora mi pare che non ci sia la data, vero? Non è citata. Perché le date sono un'altra grana in Java di cui ci occuperemo più avanti, perché le classi base della libreria Java sulle date fanno schifo. Avrei detto una parola peggiore ma sono registrato. E quindi vedremo, diciamo così, come gestire. Quindi per ora stranamente abbiamo solamente i corsi e i voti da gestire. Quindi all'interno di questa classe voto avremo due attributi che sono sempre per noi attributi privati. Il primo che è il nome del corso, chiamiamolo nome, chiamiamolo corso come volete, e l'altro è il voto. Che possiamo, private, definirlo come variabile intera. Ok? Dopodiché perché questa classe sia una buona cittadina nel mondo degli oggetti Java dovrà avere un costruttore dei getter e dei setter per le sue proprietà. E vabbè, questo lo sappiamo, ma chiediamo, visto che sono cose banali, le facciamo creare le clips. Quindi crea un costruttore partendo da questi campi e crea i getter e setter, o genera i getter e setter, di entrambe le proprietà vogliamo che siano entrambe leggibili e scrivibili. Quindi ho sia il get che il set, sia per nome che per voto. Qui già un pochino ci stiamo già complicando la vita, non complicando la vita ma creando un pochino di confusione, perché voto è sia il nome della classe sia il nome di una sua proprietà. Cioè voto è la classe voto, quella riga sul libretto, ma è anche il numerino. Allora, possiamo tenerla così oppure possiamo decidere magari che il nome voto qua non è proprio il massimo, per evitare la confusione e chiameremmo questo voto in un modo diverso. Non so, punteggio? Non so cosa preferite fare. Mi ricordo, poi immaginiamo che quando avremo nel programma delle variabili voto non sappiamo mai se sono l'intero o se sono la classe. Ovviamente Java non si confonde, siamo noi che poi, magari lo chiamiamo punti, quindi facciamo, non c'è un rename, maledetto, troppo tardi. Rename. Chiamiamolo punti. L'operazione di refactor ci permette di cambiare il nome di una variabile in tutti i punti in cui compare. Poi ovviamente la chiamo get punti e set punti. Non ho mai chiamato il nome di setter, ma punti. mettiamolo anche qua. Dare i nomi giusti agli oggetti giusti è uno dei problemi più difficili dell'informatica, no? Quindi non diamolo per scontato. Va bene. Quindi abbiamo questa classe che ci permette di creare nuovi oggetti di tipo voto, specificando il nome del corso e i punti che abbiamo ottenuto in quel voto. Poi cosa dobbiamo fare? Fatto questo, che era facile, dobbiamo creare una classe libretto che gestisce un elenco di voto. La classe libretto deve avere un metodo ADD per il caricamento degli esami. Quindi sempre dentro il mio modello aprirò, creerò una nuova classe che chiamo libretto. e che cosa gestirà questa classe libretto? Beh, come in prima cosa abbiamo detto gestisce un elenco di voti, quindi una lista ad esempio di voti, lista, struttura di dati più semplici che abbiamo, e un metodo ADD per aggiungere ciascun voto alla lista. Quindi avrà un campo privato, che è una lista di voto, e chiamo voti, e poi avrò, vabbè, dei metodi a questo oggetto. List, ovviamente devo importarlo al java.util.list. Allora fate solo attenzione che a volte voi avete il click nervoso, per cui cliccate sulla prima cosa che vedete, no? E soprattutto quando uno poi importa qualche cosa, rischia di importare una classe che ha lo stesso nome da una libreria che non c'entra nulla, e poi mettere il programma non funziona, non capiamo perché, eccetera, eccetera. Quindi veramente prendetevi, obbligatevi nel momento in cui cliccate su un'importa a prendervi 20 centesimi di secondo per leggere ciò su cui state per cliccare. In questo caso stiamo importando java.util.list per definire questa classe voti. List e non array list o linked list, ok? Noi impareremo sempre a cercare il più possibile di definire variabili o proprietà usando interfacce, e poi usare le classi concrete solamente nel momento in cui serve, solamente nel momento in cui devo effettivamente creare l'oggetto. Ok? In modo che se poi volessi modificare l'implementazione concreta di un array list, cioè modificandola su una linked list o altro, lo posso fare senza modificare nulla nel programma se non il punto in cui faccio la new. E quindi nel mio costruttore, che sarà ovviamente un costruttore public, non public, public, libretto, un costruttore senza parametri, perché io posso creare un libretto vuoto senza nessuna informazione, creerò ovviamente una prima struttura dati che inizialmente conterrà nessun voto. Quindi this.voti uguale new, penso array list, che contiene oggetti di tipo voto, aperto e chiuso a tonda. Anche array list chiaramente lo andiamo a importare dal java.util. Ok? L'operazione new, che era, via sempre dice, un'operazione abbastanza di base, abbastanza indolore, in realtà quando i programmi diventano, diciamo così, più complessi è un'operazione che si fa sempre meno e sempre in luoghi più controllati. Lo vedremo. Proprio per garantire la versatilità che ci dà la programmazione oggetti. Solamente in questo punto io mi sto impegnando su qual è la classe implementatrice dell'interfaccia lista che userà il mio programma. Solamente in un punto. Vedremo man mano che andremo avanti che ci saranno dei pattern di programmazione in cui gli oggetti non li creiamo mai come new, ma chiamiamo delle funzioni apposta per crearli, perché a volte non c'è, nel momento in cui devo creare l'oggetto non ho tutta l'informazione che mi serve per sceglierlo. Di questo chiaramente avremo modo di parlare, cerchiamo di vedere un po' dei problemi che nascono fuori quando devo usare delle librerie in più e non solamente lavorare con i miei quattro oggetti che mi costruisco da solo. Quindi il costruttore mi crea già un oggetto libretto valido, correttamente creato, a cui devo aggiungere il metodo add, public, void, int, vuoto, libretto. Qual è il valore di ritorno del metodo add? void. Può essere void. Cioè il metodo modifica la strutturazione del libretto e non ho bisogno che mi ritorni nulla. E aggiunge add che cosa? Beh, io posso aggiungere un oggetto di tipo voto oppure posso decidere che questo metodo riceve la stessa cosa, il nome e i punti. Quale dei due è meglio? Un oggetto voto oppure i due campi, le due proprietà di cui ha composto un voto? Sicuramente l'oggetto voto. Perché? Perché se un domani qualcuno mi va a modificare i punti, me li mette double perché accettiamo i punteggi frazionari, oppure aggiunge la data, oppure aggiunge altre informazioni, se io qua lavoro con l'oggetto voto non devo modificare nulla. Ok? Noi cercheremo di creare la classe libretto che buona parte dei metodi non sa come è fatto un voto, non sa quali sono le proprietà del voto, tranne i punti in cui ha bisogno di saperlo per certe operazioni, ma meno sa una classe, meglio è dell'altra. Ok? Quindi riceve un oggetto voto che a questo punto qualcun altro dovrà creare, va bene? E chi fa la new di quell'oggetto voto che deve sapere quali sono i campi da metterci dentro, non chi usa l'oggetto già creato. Allora, questo metodo che cosa farà? Farà semplicemente voti.add, anzi mettiamo dis.voti.add metodo complicatissimo, no? Uso il metodo add della list per aggiungere in coda a una collection un oggetto della stessa classe della collection. Questo lo diciamo, lo riassumiamo, abbiamo creato un nuovo metodo con lo stesso nome però a un livello superiore. Questo schema qua di programmazione, questo pattern di programmazione lo usiamo tantissimo e si chiama delegare. Abbiamo delegato alla list l'operazione che dovevamo fare noi, cioè io libretto ti dico ah faccio questa operazione ma quando mi chiedi di farla in realtà lo delego a un oggetto più stupido di me che è l'oggetto lista. Daremo dei nomi a questi metodi, a questi diciamo così schemi di programmazione proprio per non doverlo ripetere ogni volta, no? Allora questo metodo qua lo deleghiamo semplicemente a questa classe, il che vuol dire semplicemente vado a richiamare quel metodo sottostante e tutto il lavoro lo fa il metodo. Questo tra l'altro mi suggerisce anche di andare a vedere qual è il valore di ritorno di questo metodo add, che non è void ma è boolean. Perché sia boolean? Lui dice ritorna vero e ritorna sempre vero. Vabbè allora è un boolean per modo di dire perché la documentazione mi dice che il valore di ritorno è sempre vero e poi ti dice vai a leggere questa documentazione di questa classe per capire perché. Allora visto che il ritorno è sempre vero effettivamente abbiamo scelto bene questo void perché non abbiamo nulla in più da dire. Se invece questo valore di ritorno in questa funzione avesse avuto un significato tanto valeva anche riportare al chiamante questo stesso significato. Adesso possiamo testare già questa prima classe facendo un primo main e nel nostro testo d'esercizio ci chiede di creare una classe che si chiama testlibretto. Quindi dove siamo? Qua sempre in questo model creiamo una nuova classe, testlibretto e questa volta in questa classe facciamo creare il main. Poi potremmo anche scriverlo a mano ma visto che siamo pigri lo facciamo creare qui. Qui all'interno della classe main possiamo creare il libretto, provare a metterci qualche cosa dentro e vedere che cosa succede. Direttamente dentro questo metodo del main. Quindi creiamo libretto lib uguale new libretto e poi proviamo inserirci dentro un voto libretto.add new voto analisi 1 30. Perché già che ci siamo e ovviamente per provarlo dovremmo vedere che effettivamente questo voto sia stato inserito. e quindi possiamo provare magari a stampare il contenuto del libretto. Qui ci vorrà un metodo per stampare questo libretto. Potremmo provare a fare questo libretto. Potremmo provare a fare, vedere cosa succede usando semplicemente una print che ci stamperà il contenuto del libretto. Oppure no? No. Ma ci arriviamo a farglielo fare. ok? Quindi se tutto va bene qua posso provare a fare un run di test libretto. Vabbè mi fa salvare ovviamente due file che non avevo salvato. E nella console di output, perché me lo metti sopra che lo volevo sotto. Allora aspetta eh. Giù. Qua. Lì. Ha stampato qualche cosa però ovviamente ha stampato il riferimento all'oggetto libretto. Non mi ha stampato il contenuto del libretto perché ovviamente la classe libretto non ha un metodo toString. Quindi tutti gli oggetti hanno un metodo toString predefinito che stampa semplicemente il nome della classe da cui derivano e l'indirizzo di memoria dell'oggetto che non è un'informazione parecchio utile. Allora per poter stampare qualcosa di decente andiamo in libretto. Se vogliamo che gli oggetti della classe libretto siano stampabili dobbiamo fare l'override del metodo toString. E ritornare la stringa che vogliamo per rappresentare l'oggetto stesso. Allora la prima cosa che possiamo fare è sempre per livello di pigrizia massima deleghiamo alla lista. Poi possiamo decidere che ci piace o no e possiamo sempre migliorare. Per noi in questo momento abbiamo un'urgenza quasi fisica, quasi come quando devi andare in bagno. Abbiamo scritto 5-6 righe di codice e le dobbiamo testare. Perché io non vado avanti a scrivere altri righe di codice se non sono sicuro che quello che ho scritto finora sono 10, ma sono già troppe, se non sono sicuro che funzionano. E quindi per ora cerco la via minima più veloce per riuscire a testare ciò che ho scritto. Poi lo posso sempre migliorare, lo posso sempre abbellire. Quindi la cosa più veloce per stampare il contenuto del libretto che alla fine è una lista, è quello di chiedere la lista stampati. Allora io dirò che questo è vthis.voti.toString. Voti è un array list e l'array list sa come stamparsi. Infatti se io facessi il nuovo run di questo programma, mi dice che il mio libretto è una lista, vedete le parentesi quadre, che contiene un elemento solo e mi dà purtroppo il codice di quell'elemento. Ciò che c'è scritto tra le parentesi quadre che cos'è? È la rappresentazione, il toString dell'oggetto vuoto. E allora torniamo all'oggetto vuoto. Anche l'oggetto vuoto dovrà avere una rappresentazione stringa. Allora possiamo questa volta chiedere Eclipse di farlo per noi, sempre in source, diciamo senti mi fai un toString. E lui mi dice sì sì te lo faccio, dimmi solo quali variabili vuoi mettere dentro al loro che stampa. E vabbè per default fammi vedere sia il nome che i punti. E lui mi genera il metodo toString scrivendo questa roba qua. Quindi a questo punto se io rifacessimo run mi farà vedere, esteticamente fa schifo, però le informazioni ci sono. Le parentesi più esterne ce le ha messe l'arraylist. Poi il singolo voto inizia qua e finisce qua, dove questa è la costruzione del toString fatto da Eclipse. Ci ha messo il nome della classe, poi il nome uguale, l'attributo nome, virgola punti uguale e il punteggio. Adesso forse è un po' ridondante questa rappresentazione. Noi potremmo semplificarla semplicemente scrivendo il nome e magari due punti e il voto, visto che di questo stiamo parlando. Sì il nome, bravo. Non il nome, ma il nome del corso. Quindi a questo punto se io tornassi nel mio test e aggiungessi un secondo voto, quindi nel mio libretto posso aggiungere un nuovo voto, fisica 1, che quando va bene sappiamo cos'è, facciamo run e mi fa vedere primo voto, secondo voto. Queste parti qua sono il toString dell'oggetto voto, le parentesi qua delle virgole sono il toString dell'arraylist. Se ci piace va bene così. Se invece i voti li volessimo stampare magari incolonnati uno sotto l'altro, andiamo a migliorare il toString dell'oggetto libretto. Ma finora nessuno ce l'ha chiesto. Cerchiamo di rendere questi oggetti buoni cittadini nel mondo Java in modo di implementare i metodi principali che gli permettono poi di interagire tra di loro e sfruttare quelli che già ci sono. Ok, abbiamo visto che qualcosa fa. Adesso cominciamo a implementare le varie richieste. Punto 1, inserire nel libretto un elenco di 10 oggetti vuoto a piacere. Scusate 10 non ho voglia, ne abbiamo messi 2, poi se ci serve aggiungiamo un altro pari, però basta aggiungere degli ad. Stampare tutti i corsi in cui il voto è pari a 25. Allora, questo è banale, però chiediamoci come farlo, come conviene farlo, come conviene organizzarlo. A me vengono in mente due o tre metodi. Uno è quello di dire facciamo un metodo stampa voti che accetta un parametro che è il valore, 25, del punteggio chiaramente da selezionare. Dentro questo metodo stampa voti farò le system.out dei voti stessi. Questa è una possibilità. Seconda possibilità, faccio un metodo analogo che però non gli stampa direttamente i voti ma mi restituisce una stringa che poi io nel main stamperò. Quindi la differenza è che nel primo caso stampa voti è un metodo void che gli passo un punteggio e lui mi stampa già direttamente sullo schermo i voti. Nel secondo caso ho un metodo che ritorna una stringa e dovrò io chiamare il metodo, ottenere la stringa e stampare la stringa. Quindi la print alla fine la fa il main e non la fa il metodo. Tra queste due, poi ne aggiungo un'altra, ma tra queste due opzioni qual'è la più versatile, la preferibile. A me pare che la seconda è più flessibile. Perché magari voglio stampare sulla console, magari invece voglio mettere questo valore all'interno dell'interfaccia grafica. Allora se il metodo mi fa direttamente la print, lo vincolo già a quel metodo a essere usato in un certo contesto specifico e quindi diventa meno riutilizzabile. C'è un terzo modo che secondo me è ancora più flessibile, che è quello di fare in modo che questo metodo che seleziona gli esami in cui voto a 25 non restituisca una stringa, ma non restituisca un libretto, un nuovo oggetto libretto in cui ci sono solo i voti pari a 25. Questo nuovo oggetto libretto ha il suo toString e quindi è già capace di stamparlo. Quindi io cerco di lavorare avendo come risultato di un'operazione, filtro questo, filtriamo un sottoinsieme che abbia certe proprietà, il risultato non è la stringa di basso livello, le stringhe sono sporche, puzzano, una volta che ho una stringa non ci posso più far nulla, ma un oggetto da cui posso a sua volta fare altre operazioni oppure evidentemente visualizzarlo, tra l'altro con lo stesso metodo toString che ho già. qui non devo creare un altro metodo che mi costruisca la stringa solamente di un sottoinsieme di voti. Qui cerchiamo di riuscire per quanto possibile a lavorare sempre sugli oggetti. e solo quando proprio siamo all'ultimo passaggio allora dall'oggetto scendiamo la stringa. Quando lo stamparlo, quando lo dobbiamo leggere dall'utente, allora lì quelle stringhe sono. altrimenti cerchiamo di lavorare il più possibile con gli oggetti strutturati. Allora questa semplice richiesta quindi vuol dire che creerò un metodo, mettiamolo dopo l'add, che crea un nuovo libretto a partire da un libretto esistente filtrando sul valore di un voto. lo possiamo chiamare filtra voto, filtra punti e riceve ovviamente un parametro intero che sono i punti rispetto ai cui deve fare la selezione. e questo metodo restituirà un oggetto di tipo libretto. Come? Vabbè dentro creo un nuovo libretto e ci copio dentro solamente i voti che rispettano il mio criterio di filtra. sono due righe. Libretto result fatemelo chiamare result così mi ricordo che è il risultato che devo ritornare da questa funzione in un libretto e poi itero sui voti che ho for voto vi come parte due punti dei voti attuali dis.voti se il punteggio è quello giusto if v punto get punti uguale punti allora lo aggiungo nel nuovo libretto result.add vi alla fine return result quindi io dis.voti è una proprietà del mio libretto di me stesso io sto creando un altro libretto dentro il quale metterò solamente i voti che hanno quella proprietà io per mettere i voti nell'altro libretto lavoro col suo metodo add come se fosse un oggetto di altri in teoria poiché result è della stessa classe mia io posso io posso potrei dentro il result vedere la proprietà voti in java c'è questa stranezza che tu quando hai un metodo privato hai un oggetto di una proprietà privata quella non è privata all'oggetto che possiede quella proprietà ma è privata nel senso che è accessibile a tutti gli oggetti della stessa classe allora io dis.voti è chiaro l'unico modo visto che dis è l'oggetto corrente su cui viene chiamato questo metodo ha accesso alle sue proprietà private in teoria anche result potrei avere accesso alla proprietà private di result perché è della mia classe però e quindi potrei fare direttamente result punto voti punto add quindi lavorare direttamente con l'arraylist dentro result però mi piace poco perché adesso add non fa nulla nel senso che delega ciecamente ma se add facessero i controlli in più tipo evitiamo che di inserire due volte lo stesso esame allora richiamare il metodo add mi garantisce di fare i stessi controlli se invece io volessi bypassare il metodo add mi prenderei la responsabilità di rifare io quei controlli che faceva add sapere quali sono e duplicare del codice brutto è brutto ok? qui noi stiamo come vedete sto giocando con voi per cercare di capire non tanto come si scrive il codice ma perché facciamo una scelta piuttosto che un'altra no? allora se va bene questo vuol dire ovviamente torno nel mio programma main fatemi aggiungere due esami da 25 che ne so mettiamo quelli del primo anno dai informatica 25 e poi l'altra come si chiama algebra lineale geometria bla 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 ma 25 allora il libretto così ovviamente ma vogliamo stampare a questo punto solamente i voti pari a 25 quindi system.out print line voti pari a 25 allora mi vado a creare un nuovo libretto faccio calcolare un libretto lib25 dal metodo filtra per punti 25 e a questo punto stamperò lib25 la cosa bella è che il metodo la classe libretto non ha idea di dove vada a finire questa stampa questi valori così così come il metodo filtra punti 25 non ha idea di come verrà stampato il contenuto del libretto nel senso che se poi modifichiamo to string verrà modificato al formato del libretto sia prima che dopo ma il metodo filtra punti è un metodo di pura logica lui fa dei calcoli scemi ma fa solo dei calcoli senza pensare a dove arrivano i dati e dove andrà a finire il risultato il metodo filtra crea un nuovo libretto e questo libretto ha tutta la dignità di poter raggiungere altri esami di poter fare non è un metodo finalizzato a stampare è un metodo genericamente utilizzabile quando vogliamo estrarre un filtro diversi in questo caso con criterio di uguaglianza ok questo era facile ci potete implementare in modi diversi però noi facciamo sempre questo sforzo in più di cercare di pensare avanti il problema su problemi complessi non è scrivere il codice è scriverlo in modo manutenibile in modo che lo si possa poi far evolvere si possa poi diciamo così migliorare più avanti ricercare nel libretto il voto di un esame dato il nome del corso quindi quella prima era un'operazione di dato un insieme di voti estrai un sotto insieme di voti qui invece un'operazione dato il nome di un corso restituisci il punteggio il numero di punti allora qui è chiaro che probabilmente mi conviene restituire un int direttamente non ci sarà mai il caso in cui io debba restituire una lista di voti in teoria il nome del corso noi non lo stiamo verificando ma dovrebbe essere un imo ok quindi questo è un metodo più diciamo così tradizionale non dobbiamo fare grossi ragionamenti ricercare il voto dato il nome del corso allora dal tassalibretto pubblichiamo un metodo scriviamo un metodo pubblico scusate non pubblichiamo un metodo che ritorna un intero chiamiamolo cerca punti o punti esame dove riceve come parametro il nome dell'esame vabbè andiamo a prenderli tutti for voti voto v come parte di dis.voti il nome del corso il nome del corso quindi v.get nome uguale nome return v.get punti attenzione ditemi cosa ho sbagliato c'è due errori uno è qua l'uguale le stringhe non si confrontano con l'operatore di uguale ma con il metodo equals anche se vi viene da scrivere uguale con la tastiera non fatelo ok l'operatore di uguale funziona solamente con i numeri interi tra l'altro perché sui numeri reali abbiamo l'approssimazione dei floating point e quindi non si usa lo stesso questo uguale uguale messo qui va a confrontare i riferimenti agli oggetti se quei numeracci che vedevamo sotto e di sicuro la stringa che ci ho messo dentro quando ho inserito il corso nella lista non è anche se ha gli stessi caratteri non ha la stessa posizione di memoria della stringa che userò che magari ho letto dalla tastiera con il nome del corso quindi purtroppo questo confronto è un confronto che sintaticamente è valido ma semanticamente non faccia che vogliamo qui si sta chiedendo se questa stringa è lo stesso oggetto di questa stringa invece noi quello che vogliamo è controllare se quella stringa ha lo stesso contenuto di quell'altra stringa non se coincidono come oggetto ok? occhio che metà dei bachi che abbiamo sono la confusione tra contenitore e contenuto quindi dimentichiamoci per sempre che esiste l' uguale tranne casi rarissimi noi prima l'abbiamo fatto uguale qua è ancora qua sullo schermo alla lega 21 ma perché quelli erano degli int dei numeri interi è l'unico caso in cui ha senso confrontare con uguale a meno che non vogliamo fare controlli di identità di oggetti ma quello è un altro mestiere quindi ricordiamoci confronto di string equals questo è il primo errore il secondo errore ce lo dice già Eclipse cosa faccio se non l'ho trovato Eclipse ci sta dicendo perché è rosso qua lui mi sta dicendo this method must return result of type int e tu dici ma si lo sto ritornando si lo sto ritornando ma non sempre perché visto che qua dentro sono sotto una if è possibile che io anzi sicuramente se io inserisco il nome di un corso che non c'è e lui non me lo trovo e allora devo ritornare un valore comunque qua e qui è un casino cosa ritorno? che valore ritorno? allora c'è la qualcuno mi ha detto meno uno ok qualcuno dice che devo in questo caso ritornare meno uno quando non l'ho trovato altre proposte? 50 lo vuole ritornare 100, 1000 oppure? no ma non importa come la inizializzo voglio sapere che se io chiamo allora cosa ci aspettiamo? mettiamoci dal punto di vista del cliente di questo metodo di chi chiama questo metodo ti passo il nome di un corso che non esiste tu mi devi dare il punteggio se il corso non c'è qual è il valore più sensato che tu mi puoi restituire? allora la risposta ovviamente non c'è univoca possono esserci varie risposte sicuramente devo darti un valore che tu non possa confondere con un voto legittimo cioè non posso dire se non c'è ritorno 21 cioè questo no allora ha senso no? quello che dicevano alcuni di voi ritorna meno uno allora quando io chiamo il metodo cerca punti esame non posso fidarmi subito del valore che ritorna devo controllare quel valore e poi capire se è meno uno che è un numero magico un numero sentinella una convenzione tra di noi, tra amici ci mettiamo d'accordo che se ti sputo meno uno allora c'è qualcosa che non vale allora non l'ho trovato e questo è una possibilità altri dicevano allora tra tutti i numeri non validi a me sembra che se scegliamo come diciamo così come strategia quella di restituire un voto non valido qualora l'esame non sia trovato mi sembra che meno uno sia il numero preferibile non ci metterei meno otto non ci metterei zero perché zero non è tanto bello ma è un voto valido e così via quindi mi sembra una scelta migliore nell'idea ritorniamo un valore intero non valido qualcun altro invece ha detto null che è un'altra possibilità di sicuro nulla è non valido e di sicuro se provo a usarlo il programma mi spara un'eccezione e si blocca quindi se fossi pigro e mi dimenticassi di controllare che se quel valore è il valore anomalo mi ferma subito a Java l'istituzione successiva quindi è più tra lo vedete sicuro ci immaginate un programma che faccia la media dei voti allora voi scrivete 4-5 nomi di voti di esami scusate lui deve fare la media e se chiamo questo metodo ritorno meno uno perché avete sbagliato a scrivere il nome di un esame e quindi non c'era e se il programma non fa attenzione non controlla questo valore di ritorno meno uno vi fa la media sommando meno uno come valore lecito quindi ve la fa un po' bassa come media ve la bassa ancora più di quanto purtroppo non si e invece se ritorno un null quando poi provo a fare le somme se controllo il null e diciamo così evito quell'elemento benissimo se non lo controllo mi da un'eccezione quando cerco di usarlo quindi da questo punto di vista è più sicuro c'è un piccolo difetto questo qua lo segna come errore adesso perché lo sta segnando come errore? perché io gli ho detto che ritorno un int e null non è un valore int perché null è un oggetto un riferimento non valido a un oggetto quindi dovrei come minimo ritornare un integer che è l'oggetto che vrappa che riveste il valore primitivo int allora un integer può essere null un int no poi lo tratto come un intero normale nel senso che posso tranquillamente prendere un integer e mettere dentro una variabile int posso usarlo per fare le somme cioè lui viene automaticamente convertito da classe integer a oggetto int tranne quando è un null e allora in questo caso quando cerco di convertirlo int se non ci riesce mi danno eccezione quindi in questo caso direi che è preferibile c'è un'altra possibile soluzione che mi viene in mente che è quello di sparare una eccezione generare una eccezione cioè o ritorno un valore che è facile per il chiamante riconoscere che sia un valore anomalo oppure mi rifiuto di ritornare un valore perché non lo posso fare e allora uso il meccanismo delle eccezioni per dire senti caro non l'ho trovato no? e quindi posso trov new che ne so illegal argomine credo potrebbe essere come eccezione corso non trovato allora se questo metodo viene chiamato con il nome di un corso non valido genera un'eccezione e quindi il programma chiamante deve essere pronto o a schiantarsi bloccarsi a questo punto si bloccherebbe così come si sarebbe bloccato ricevendo un null ma con un messaggio di errore più sensato oppure a fare un bel try catch per verificare se si è verificato l'errore quando chiamo col metodo quando faccio una parsent faccio questo quando ho una stringa devo convertirlo in intero devo fare un try catch intorno perché non sono mai sicuro del buon successo la parsent non mi ritorna null mi da un'eccezione se la stringa non contiene un intero da parsificare correttamente quindi in ogni caso il chiamante di questo metodo può essere cieco e tutto funziona solo se non ci sono errori e se ci sono errori il programma si blocca oppure avere parte attiva nel controllare il valore di ritorno che sia null che sia un'eccezione se è null devo fare una if se è un'eccezione devo fare un try catch ma non è che cambi tanto l'importante è che sia chiaro qual è il contratto tra chiamante e chiamato e che il programma tenda a non continuare con dei valori errati cioè la cosa peggiore che possiamo fare è inquinare l'elaborazione con un valore errato un valore sballato che va avanti perché mi sono mi sono dimenticato di controllare un valore di ritorno in un certo punto che può capitare quindi noi stiamo cercando sempre di fare in modo che il programma il programma ci protegga dai nostri errori ok tra queste due non è che sono favorevoli l'uno oppure l'altro ci sono alcune librerie anche oggetti di libreria che usano una strategia altri che usano un'altra strategia anche quella del meno uno per carità però mi sembra più ritornare al meno uno dà maggiore responsabilità al chiamante se non controlli resti fregato negli altri due casi se non controlli comunque ci fermiamo ok allora se la vogliamo far semplice possiamo ritornare a Nala ad esempio però non è banale cioè non è scontata una scelta piuttosto che l'altra e infatti quando ho detto purché sia chiaro cosa vuol dire? vuol dire purché la funzione sia documentata e quindi è tanto importante il codice che scrivo quanto la documentazione della funzione stessa questa funzione restituisce il numero il punteggio ottenuto all'esame di cui specifico il nome il nome parametro nome è nome dell'esame return return punteggio numerico oppure null se l'esame non esiste no questa è la cosiddetta sintassi del java doc quindi documentazione sotto forma di commento che ha una sua mini sintassi per creare il blocco di documentazione basta semplicemente scrivere barra asterisco asterisco con due asterischi dopo che avete sistemato la funzione battete invio e lui già vi crea questa parte param return eccetera che sono le varie informazioni che dovete dare le prime righe sono la spiegazione a parole della funzione poi c'è la funzione del primo parametro secondo il terzo quarto parametro funziona il valore di ritorno eventualmente se avessimo un'eccezione aggiungeremo una parola trousse che spiega che tipo di eccezioni possono essere generate da questo metodo una volta che ho scritto questo tutte le volte che vado sul nome del metodo sia qua che nei vari punti del programma che lo richiamano salta fuori questa documentazione perché visto che questa è una ricerca indelebilmente marchiato fuoco nel nostro cervello ricerca e se non lo trova qui c'è sempre questa domanda e la risposta la voglio trovare qua poi qua mi pare che si chiami code per mettere null sotto col carattere col font giusto del desorgente ok? quindi abituiamoci anche a questo punto a tutti gli altri metodi a documentarli dopo che abbiamo speso un quarto d'ora a pensare al metodo in modo migliore di implementarlo possiamo spendere venti secondi a documentarlo e ci salverà sicuramente più avanti la vita la vita no ma dei bacchi magari si poi andiamo avanti quindi vedete che sono tutti esercizi stupidi ma io li uso come pretesto no? per affrontare su questo esempio delle buone abitudini no? di programmazione creare un nuovo oggetto voto e verificare se tale valutazione esiste già nel libretto nel senso di avere lo stesso esame con lo stesso voto e poi c'è un'altra richiesta che è il punto 5 creare un nuovo oggetto voto e verificare se esiste un conflitto con il libretto c'è uno stesso esame ma con voto diverso allora questi sono due metodi molto semplici fratelli quasi che sono essenzialmente booleani anche qui c'è non c'è esiste un voto con lo stesso nome e lo stesso punteggio esiste un voto con lo stesso nome ma punteggio diverso e beh questo qua si può fare questi sono semplici non ci vedo grosse continuo a voler cambiare programma invece devo lavorare qua quindi a questo punto avrò un metodo che verifica se c'è un conflitto se c'è un duplicato ok quindi avrò un metodo public che restituisce un boolean così i metodi che restituiscono un boolean quasi sempre si chiamano is qualche cosa is duplicato voto v qua è banale quindi itero sui voti voto v1 dis.voti if v1 punto get nome punto equals v punto get nome and v1 punto get punti equals v punto get punti allora return true altrimenti return false vale io cosa abbiamo sbagliato le parentesi ah no scemo questi sono degli interi non posso usare equals devo usare uguale una un'altra un'altra allora questo funziona penso dovrebbe dovremmo provarlo aggiungere due tarini nel main per verificarlo però prima di verificarlo non sale anche voi un po' la nausea a vedere quella if perché il libretto deve incasinarsi per confrontare un oggetto vuoto con un altro oggetto vuoto cioè non è il suo bestiere qual è la classe che deve sapere come confrontare un oggetto vuoto con un altro oggetto vuoto la classe vuoto fatta la domanda la risposta è evidente quindi stava qua va spostata in voto l'oggetto vuoto non ha al momento un metodo equals e quindi se provassi a chiamare equals lui andrebbe a confrontare gli indirizzi di memoria che non è quello che ci vuole perché è in realtà da object ma allora noi possiamo facilmente aggiungere un oggetto equals non aggiungiamo la mano perché siamo pigri ma perché Eclipse è capace da solo di aggiungere il metodo equals che lo fa più furbo di quanto faremmo noi ma se guardate non c'è generate equals ma generate escode and equals cioè questi due metodi escode e equals o ci sono entrambi o non c'è nessuno dei due devono andare sempre a braccetto questo il perché ve lo racconta Alberto la prossima volta lo sapete già però noi ci baseremo moltissimo sull'excode sulle nostre strutture dati quindi lasciamo per ora ricecode non ci servirà ma Eclipse giustamente ti dice che devi crearli entrambi creare entrambi sulla base delle proprietà che selezioni qua quindi qua attenzione che dobbiamo selezionare scegliere gli attributi dell'oggetto voto che riteniamo fondamentali per considerare due voti identici uguali allora in questo caso entrambi devono essere uguali perché il voto sia lo stesso il nome del corso e il punteggio quindi va bene selezionare entrambi ma se la classe se l'oggetto avesse anche altre informazioni tipo se quel giorno pioveva o no che decidiamo di mettere nel libretto allora quello non sarebbe rilevante ai fini dell'identità del voto il voto che ho preso tu o quello che ho preso io è lo stesso anche se quando hai dato l'esame c'era il sole e quando l'ho dato io c'era pioveva oppure la data immaginate quello che dicevamo non posso avere due volte lo stesso voto nel libretto e quindi vuol dire che la data magari è diversa ma se il nome del corso è lo stesso quindi nel scegliere nello scegliere quali campi vanno a finire nella scoda equals sto decidendo io qual è il criterio di identità dell'oggetto voto quali sono le proprietà di due oggetti voti le quali se sono uguali rappresentano lo stesso valore e gli altri attributi sono attributi accessori aggiuntivi che però non entrano a far parte dell'identità dell'oggetto questo è quello che facevate a base di dati quando sceglievate la chiave primaria di una tabella è lo stesso identico ragionamento fatto in java e lui ci genera questa cosa che brutto aspetta un attimo perché c'era tolgo questa opzione qua che non mi piace perché fa riferimento ai metodi di objects allora questo è più lungo ma è più leggibile allora noi se noi avessimo dovuto scrivere il metodo equals probabilmente avremmo scritto questo nome punto equals altro nome e punti uguali altri altri punto punti cioè era quello che ci mi aveva in mente era quello che avevamo scritto nella classe libretto in realtà questo metodo equals in realtà fatica un pochino di più perché deve controllare se c'è un null come primo parametro come secondo parametro se la classe dell'oggetto passato è diversa è sbagliata quindi faccio un equals con un oggetto della classe non compatibile con la mia e così via che sono controlli giusti da fare però probabilmente se lo scriviamo noi ce ne saremmo dimenticati poi non ce ne saremmo accorti perché come usiamo noi questo oggetto vuoto lo usiamo sempre correttamente però usarlo correttamente lo so sempre e poi solo dopo se non faccio degli errori quindi il bello di avere dei metodi autogenerati è che fanno già dei controlli che magari non sarebbero venuti in mente e poi c'è il metodo hashcode che oggi non ci interessa allora avendo però a questo punto con questa digressione aggiunto il metodo equals alla classe voto il mio is duplicato della classe libretto diventa banale perché mi chiedo chiedo al voto v1 se equals al parametro v che ho ricevuto quindi delego all'equas di voto il controllo se un domani dovesse aggiungere dei campi a voto dovrò scegliere decidere se questi campi entrano a far parte del criterio di uguaglianza e nel tal caso modificare l'equas ma la classe libretto non ha bisogno di sapere nulla di tutto ciò l'altro l'altro metodo quello del punto 5 giusto? e dai che qua è un criterio leggermente diverso se esiste un conflitto stesso esame e voto diverso ci verrebbe più o meno da applicare lo stesso criterio public boolean is conflitto voto v come facciamo farlo in modo furbo perché farlo abbiamo detto che siamo capaci ma qui oggi stiamo cercando di fare cose in modo furbo possiamo copiare lo schema del metodo isduplicato e non è che possiamo avere due equals diversi che a seconda dei momenti funzionano in un modo o funzionano in un altro l'equas quello è l'oggetto vuoto adesso noi abbiamo ragionato sull'oggetto vuoto partendo da questo metodo qua da questa esigenza di trovare duplicati però quando uno va a progettare il metodo equals di un oggetto pensa solo all'oggetto stesso non pensa a chi potrebbe far comodo questo metodo equals e allora lo tarocco in questo modo lo adatto in questo modo ma questo qua in realtà è un metodo che si può ricavare facilmente senza andare a farci di nuovo delle iterazioni dei metodi che abbiamo noi abbiamo già punti esame che se gli do un nome mi dice o i punti o se l'esame non c'è allora semplicemente lo vado a confrontare con i punti di V no? punti vado a vedere che punteggio ha l'esame V nel libretto attuale mi hai dato un voto da controllare vado a vedere qual è il nome di questo voto chiamo il mio metodo punti esame che va già a cercare nel libretto se c'è l'esame con quel nome se c'è mi dà il punteggio se non c'è mi dà null a questo punto io ho un conflitto se e solo se questo punteggio esiste e non è null scusate se non è null ed è uguale al voto di V quindi se punti non è null e punti è diverso da V punto get punti allora ci vogliono le parentesi allora return non se ci sono i punti e sono diversi allora è un conflitto altrimenti non è un conflitto no? quindi sto cercando di usare più possibile metodi che ho già a disposizione evitando ogni volta di tornare a ravanare l'arraylist a iterare sugli elementi dell'arraylist che palla ogni volta andare a prendere un elemento per volta a confrontare i suoi quindi tante volte dobbiamo provarci o almeno a vedere ma guarda questa operazione qua si può eventualmente comporre o riusare un'altra operazione che avevo pensato per uno scopo diverso e però mi può servire per dare il risultato qui alla fine devo cercare il punteggio di un voto per poterlo confrontare ma il metodo che cerca il punteggio del voto ce l'ho già allora lo riuso quindi anche un po' qui non c'è una regola generale ma è un'attenzione che dobbiamo avere a cercare di aiutarci nel ragionare possibilmente a livello alto e non sempre pensando al singolo dato alla singola struttura dati che devo iterare a questo punto questo oggetto libretto sta cominciando a diventare un oggetto un po' furbo e allora usiamo le funzioni che mi da e non solo direttamente le funzioni di basso livello ok tutto questo ovviamente andrà integrato nella classe main che deve provare almeno questi nuovi metodi che abbiamo aggiunto punti esame su cui tanto abbiamo lavorato il duplicato il sconflitto dobbiamo aggiungere delle istruzioni nel main per poter testare adesso avete cambio d'ora quindi non vi costringo qua ad implementare dei metodi diciamo così di test quello che farò la prossima ora perché adesso sto lavorando in un progetto che è nel mio spazio ricordate che su Github abbiamo fatto clone quindi questo quando faccio push non va a finire ancora in TDP 2022 ma nella prossima ora riporto queste modifiche sul repository così ve lo potete guardare potete completarlo per conto vostro e possiamo poi confrontarci continueremo sì sì lo riprendiamo le prossime volte io faccio curate fermiamo solo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti